57esimo congresso nazionale di aggiornamento dell'Associazione Otorino-Laringo-Iatria-Ospedali Italiani, in programma l'11 e il 12 ottobre all'Aurum di Pescara, un congresso di alto profilo che ospita la nostra regione sulle nuove frontiere delle cure. Il programma scientifico abbraccia tutti i temi della disciplina con relatori esperti provenienti anche dall'estero. L'evento è stato presentato nella sede della Direzione Generale dell'Asla di Pescara. Il dottor Claudio Caporale, direttore dell'Unità Operativa Complessa, Otorino-Laringo-Iatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell'Ospedale di Pescara e Presidente del Convegno, fornisce qualche anticipazione sull'evento. Ma innanzitutto devo dire che questa è la prima volta che viene organizzato un congresso della nostra società, la OI, una società di otorino-linguatria ospedaliera italiana in Abruzzo e nella fattispecie a Pescara. È la prima volta ed è un impegno gravoso ma anche una grande soddisfazione. È molto importante non solo per me e per il mio gruppo di lavoro ma lo è un po' per tutto il mondo del specialistico otorino-linguatrico abruzzese. I temi affrontati sono vari, riguardano tutta la disciplina otorino-linguatria e in modo particolare un focus sarà fatto sull'oncologia e sull'audiologia, che poi sono temi a noi molto cari perché rientrano nel DNA del nostro reparto. Essendo il nostro reparto un centro di riferimento regionale dei tumori testa-collo e di audiologia per gli impianti cocleari. Ma quali passi avanti sono stati fatti in questi ultimi anni? In modo particolare nel campo dell'oncologia testa-collo, cervico-facciale, l'avvento di nuove tecnologie, in modo particolare la chirurgia robotica che qui a Pescara facciamo dal 2016, ha notevolmente migliorato l'approccio chirurgico a questi pazienti. Basti pensare che questi tipi di intervento hanno ridotto notevolmente l'adegenza e quindi per il paziente c'è un beneficio notevole, ma anche per la collettività. Professore, resta sempre primaria la prevenzione? Assolutamente, tant'è che noi siamo impegnati in prima persona nelle campagne di prevenzione, ne abbiamo fatta una a settembre sotto legida della nostra società, l'AIOC, la Società Italiana di Oncologia Cervico-Facciale, proprio per prevenire e per sensibilizzare l'opinione pubblica a sottoporsi a delle visite specialistiche. Il congresso nazionale di aggiornamento si svolgerà, come detto, l'11 e il 12 ottobre all'Aurum di Pescara. Qual è l'importanza di appuntamenti come questi? L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Una disciplina importante che vede un centro di riferimento d'eccellenza nella nostra regione, sia per le patologie oncologiche, ma anche per quanto riguarda il sistema autodeludito, diciamo, della possibilità anche dei bambini e quindi noi abbiamo attuato due PDTA, abbiamo fatto delle leggi anche regionali come riconoscimento di questa eccellenza e quindi un'assistenza completa sia per l'adulto che per il bambino.